Ciao a tutti! In questo video voglio mostrarvi come misurare e, se necessario, ricalibrare la velocità di rotazione del floppy disk drive Commodore 1541. Infatti, è possibile che dopo tanti anni la velocità di rotazione non sia più quella prevista in origine. Ed ecco i componenti che ho utilizzato per effettuare l'esperimento di oggi. A parte il Commodore 64, abbiamo il floppy disk drive 1541 che devo verificare. Un emulatore con SD card che mi serve per caricare il software ed il software Speedtest by Zibri, che è gratuito per utilizzo non commerciale. Nella descrizione di questo video ho inserito un link con i vari passaggi che spiegherò ed anche con le indicazioni su come scaricare il software Speedtest. L'indirizzo del floppy disk drive è impostato a 8, mentre l'indirizzo dell'emulatore è selezionabile tramite questi due deep switch ed è impostato a 9. Anche se sto effettuando questo esperimento con il drive Commodore 1541, il software Speedtest è utilizzabile con altri drive, diciamo tutti quelli compresi tra il 1541 e il 1571 incluso, ed anche con lo C118. La cosa importante è che la ROM del drive sia quella ufficiale Commodore, infatti il software non è ancora stato testato con ROM non ufficiali. Innanzitutto carico Speedtest, che avevo precedentemente copiato nella memoria SD con il nome rpm.prg. Il software è molto leggero e si avvia velocemente. È anche possibile caricare Speedtest da altri supporti. Infatti il programma è disponibile anche in formato WAV da duplicare su cassetta e in TAP per gli emulatori di dataset. Speedtest è molto semplice da utilizzare ed è stato realizzato da Zibri, che è il nickname di Pier Giorgio Zambrini. Eccolo qui in foto. Regia, possiamo avere una foto diversa di Zambrini? Ok, ora va meglio. Oltre a Pier Giorgio Zambrini, anche Flavio Pasqualin, detto web, ha collaborato alla stesura di parti del programma ed ha effettuato i primi test. Ma vediamo nel dettaglio come utilizzare Speedtest. La grafica del menu principale è essenziale e consente di effettuare diverse operazioni. Selezionare l'address del disk drive, misurare il numero di giri al minuto del motore che fa ruotare il disco e spostare velocemente la testina. Dal menu principale, prima di tutto premo 8, che serve per selezionare l'address del floppy disk drive 1541 che devo verificare. Anche se già di default l'address 8 risulta selezionato, è bene premere nuovamente 8. Infatti Speedtest funziona solo se una parte del software si trova sulla RAM del disk drive stesso. Premendo 8, Speedtest forza il trasferimento del backend del software sulla RAM del disk drive e questa operazione deve essere ripetuta ogni volta che si spegne e riaccende il drive. Il secondo passaggio consiste nel misurare la velocità di rotazione del disco. Per farlo, devo premere F1 dopo aver inserito un dischetto nel drive. Si apre una schermata molto ben visibile. I giri al minuto sono molto precisi e chiari e da questa schermata posso già fare due valutazioni. Innanzitutto vedo che il numero di giri al minuto è più basso dei 300 che dovrebbero esserci. Inoltre vedo che la fluttuazione dei numeri è piuttosto piccola. Se rimane nell'ordine di 01-03 giri al minuto significa che la meccanica del drive è in ordine e la cinghia non è da sostituire. E' importante ricordarsi di non spegnere il drive quando ci si trova in questa schermata. Prima bisogna uscire tenendo premuto un tasto qualsiasi, ad esempio lo spazio. Regolare la velocità di rotazione del floppy disk drive 1541 è molto semplice, ma ho comunque deciso di chiamare un tecnico specializzato per aprire il drive e per proseguire questo esperimento. Per aprire il drive è bene spegnerlo e scollegare i cavi, soprattutto quello di alimentazione. il tecnico deve svitare tutte e quattro le viti che si trovano nella parte inferiore del case. Dopo aver aperto il case bisogna svitare anche le sei viti interne che sostengono la meccanica del drive. Poi scollegare il cavo del led verde, cercando di ricordarsi su quale connettore andrà ricollegato. Anche se il led si accende ruotando il connettore in entrambi i versi, consiglio di fare una foto al connettore prima di scollegare il cavo, per ricordarsi il verso originale. Dopo che il tecnico ha liberato la meccanica del drive 1541, bisogna ruotarla sotto sopra. A questo punto posso ricollegare l'alimentazione e il cavo seriale per proseguire l'esperimento. Riaccendo quindi il drive e premo il tasto 8 per scaricare il back-end del software nel drive stesso. È possibile entrare nuovamente nella funzione di misura della velocità di rotazione, premendo F1. Il tecnico, a questo punto, può regolare la velocità di rotazione del motore del drive agendo sull'apposito trimmer che si trova nella posizione visibile. Bisogna regolare la velocità di rotazione in modo che sia il più possibile vicina a 300 giri al minuto. Piccole tolleranze di 2 o 3 giri al minuto non danno problemi al drive. Terminata la regolazione, si può uscire dalla schermata della velocità di rotazione, tenendo premuto un tasto qualsiasi. Posso quindi spegnere il drive, ruotare la meccanica e mostrare come spostare la testina utilizzando gli altri comandi di speedtest. Dopo aver acceso il drive, dobbiamo ancora premere 8, come abbiamo fatto prima. Posso togliere il dischetto per mostrare gli altri comandi. È possibile spostare la testina del drive premendo le frecce sul Commodore. Per spostare più velocemente la testina posso tenere premuto lo shift mentre premo le frecce. Premendo F3 la testina si sposta sulla traccia 42, mentre con F5 si sposta dal lato opposto in traccia 1. Questi comandi sono utili se, ad esempio, bisogna pulire o lubrificare le guide di spostamento della testina, oppure se si vuole pulire la testina stessa. Infine, per uscire dal programma, si preme F7 in modo che il drive riporti la testina nella traccia di default. È importante, al termine delle prove, ricordarsi di uscire dal programma premendo F7. Infatti, premendo F7, la testina viene riportata nella sua posizione di default. Se non si riporta la testina nella sua posizione di default, può capitare che si trovi in una traccia non formattata del disco e che quindi, alla recensione del drive, questo non sia più in grado di leggere i dischi, almeno fino a quando la testina non viene riportata nella sua posizione corretta. Bene, l'esperimento è terminato e posso chiedere al tecnico di rimontare il drive. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di seguire il link in descrizione per le istruzioni passo passo e per trovare il programma Speed Test. Un saluto da Medeo Valoroso. E anche da Leo.